Il tour di una delle voci più belle della canzone italiana la vedete alle mie spalle Giorgia che presenta il suo ultimo lavoro, Blu. Tornare live dopo questi anni in cui sono stata un po' lontana dal pubblico è un'emozione enorme soprattutto sembra la prima volta che da una parte è sconcertante ma dall'altra è un'emozione veramente preziosa, questo momento della mia vita è veramente un grande regalo per cui sono molto grata. Una voce inconfondibile e preziosa per colorare le note dei grandi successi, uno spettacolo unico per riabbracciare il suo pubblico. Giorgia torna in tour questa volta sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri lirici italiani, sotto riflettori con un'atmosfera diversa fino al 12 giugno, poi da novembre pronta a riaccendere i palasport. Quando preparo la set list, la scaletta per i concerti penso assolutamente al pubblico, penso prima a quello che loro vorrebbero sentire. L'ho cercato di fare un bel collage della mia storia. Due ore di spettacolo, nuove sonorità che legano i brani del passato, riarrangiati e vestiti a nuovo a quelli di oggi. Un palco essenziale, una band straordinaria e l'occasione per portare dal vivo il suo ultimo lavoro, Blue. Nove inediti, tra cui il singolo Senza Confine con Elisa, che spaziano dall'R&B a reggae fino alle ballate che prendono il cuore. Giorgia è tornata con uno stile ancora più moderno e fresco, sempre pieno di emozioni e di energie da regalare.